Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, patch 7.4 quasi rilasciata, ma abbiamo già tutte le informazioni per il grandissimo, incredibile evento di San Valentino di Fortnite. Voglio subito parlarvene insieme ragazzi. Tutti quelli che completeranno le 13 sfide a tempo straordinario entro il 27 febbraio riceveranno il pass battaglia della stagione 8 gratis! Non si devono spendere più i bucks per il pass! Molto molto bene ragazzi! Intanto ci saranno anche diverse skin regalate gratuitamente durante questo evento, quindi ragazzi, tanta tanta roba! Ma non è l'unica mega novità ragazzi! Eh sì! Torna l'invio per un tempo limitato dei regali, da oggi fino al 22 febbraio! Per il giorno di San Valentino puoi inviare il deltaplano cuore alato alla tua persona speciale gratis fino alla 1 di notte del 16 febbraio! Tanta tanta roba ragazzi! Tornano i regali! Ma andiamo avanti e parliamo ovviamente del fucile da fanteria con quest'arma semi-automatica che andremo subito a parlarne! Prima ragazzi ci saranno anche delle modifiche nelle modalità a tempo limitato! Continueremo con il ritmo più veloce nella rotazione delle mat! Quindi di tutte le modalità a tempo limitato ragazzi! La prima si chiamerà prendi! Troveremo praticamente in questa modalità tutte le armi da fuoco rimosse! Le uniche armi disponibili sono granate e oggetti da lancio! Granate fumogene appiccicose, esplosivi, telecomandati, fortatili! Insomma dobbiamo cercare di vincere solo a colpi di granate! Ci saranno anche ragazzi un'altra modalità a tempo che è la rissa a squadre! La conosciamo benissimo ragazzi! Due squadre da 50 combattono per la vittoria reale! Vince la prima squadra con 100 eliminazioni! E ci sono anche delle ricompense interessantissime per le sfide a tempo straordinario! Vuoi ottenere gratis il pass della season 8? A partire dall'aggiornamento 7.40? Lo otterrai come ci ricordano completando tutte le sfide! Completando le sfide otterremo anche 5 nuove ricompense! Tra cui la copertura di San Valentino e la scia a piante rampicanti! Ma parliamo ragazzi del fucile da fanteria! I danni sono 41, 43 e 45 suddivisi nella versione comune, non comune e raro! Ovviamente il moltiplicatore dei danni alla testa è 1x2! Lo troviamo a terra, lo troviamo nei distributori automatici e utilizza le munizioni medie! Hanno modificato il cespuglio! Da adesso col cespuglio assorbe un danno da arma prima di essere rimosso! Un po' come fa il pupazzo di neve! I danni da caduta non rimuovono il cespuglio! È trasparente ragazzi! Solo per chi lo indossa! Quindi anche se abbiamo il cespuglio noi non ce lo vediamo addosso! Tanta tanta roba! In modo che possiamo vedere meglio l'ambiente! Torna anche la balestra di Cupido! Che si trova in rarità epica! Munizioni infinite! Hanno aumentato i danni al corpo a 79 e alla testa a 197! Tanta tanta roba ragazzi! Modifiche anche alla pistola pesante quindi alla Deagle! Ridotti i danni da 150 a 100! Lanciarazzi hanno spostato come già vi anticipavo ieri la disponibilità del Lanciarazzi! Non è più nei chest ma è solo nelle consegne di rifornimenti! Hanno rimosso i Lanciarazzi quindi dai forzieri! Hanno aumentato però la probabilità dal 25% al 50% di riceverne uno nelle consegne di rifornimenti! Hanno anche ragazzi! Troveremo fuori dal magazzino le granate appiccicose! Quindi reinseriscono le sticky bomb! A me piacevano tantissimo e sono veramente devastanti! E come vi avevo già detto arriva anche la balestra di Cupidu! Tolgono le granate ragazzi! Momentaneamente non avremo disponibili le granate normali! Hanno rimosso la capacità dell'aereoplano quindi dell'X4 di attraversare le strutture e gli oggetti di grande dimensioni! Quelli piccoli vengono comunque distrutti! Ovviamente quelli grandi no! Hanno aumentato la distanza percorsa nel cerchio finale del 48% e hanno aumentato anche il tempo di rastringimento da 45 a 75 secondi! Hanno modificato anche la velocità della costruzione turbo! ridotto da 0,15 a 0,05 il timer iniziale per la costruzione turbo! Attenzione! Aggiunta l'abilità di scambiare l'oggetto nello slot selezionato con un altro oggetto tenendo premuto il comando interagisci invece che premendolo! Quindi andremo a vedere come hanno migliorato la possibilità di muovere lo slot delle armi! Le trappole a terra costruiranno automaticamente il pavimento richiesto! Bisogna ovviamente avere le risorse richieste! Il pupazzo di neve verrà distrutto se cade da una grande altitudine! Quindi attenzione! Rimossa anche l'interfaccia per il surriscaldamento della mitragliatrice! Dovremo stare attenti se la vogliamo utilizzare a non farla riscaldare! Modifiche alle zipline come vi avevo detto da ora le zipline si attivano con l'interazione quindi ci sarà un tasto per farle attivare siamo immuni! Ogni volta che cadiamo da una zipline da qualsiasi altezza e le zipline hanno un'icona visualizzatore audio penso probabilmente per chi utilizza il gioco senza l'audio! Modifiche anche per la mira assistita! hanno aggiunto un ritardo composito alla funzione di aggancio della mira assistita se si usa ripetutamente il comando del mirino! Ogni pressione dopo la prima si applica un ritardo fino a 5 secondi prima che venga applicato l'effetto di aggancio della mira assistita! Le hanno un po' nerfacchiate! Hanno modificato in questo modo in modo che vogliono evitare che i giocatori premano ripetutamente il comando usa mirino sui nemici per mantenere il mirino costantemente agganciato hanno risolto un problema dove il razzo bottiglie non si allineava alle specifiche pendenze hanno sistemato anche i legni del falò confortevole finalmente non bloccano più i movimenti effettivamente davano un po' fastidio impediamo che l'auto ricarica delle armi annulli le emote quindi un'altra roba interessante e hanno risolto un problema per il quale le trappole che si attivavano attraverso le mura della galleria del laboratorio a sprofondo stantio quindi GG anche per queste cose arriva ovviamente il nuovo evento Share the Love il giocatore singolo e a coppie dal 14 al 24 febbraio dove si competerà in 4 divisioni ne avevamo già parlato otteniamo abbastanza punti durante una sessione per ricevere una spilla che si sbloccherà quindi la divisione successiva gli spray della Share the Love Series verranno conferiti in base alla divisione più alta raggiunta incluse le finali della divisione campioni il 17 febbraio invece arriverà il torneo Coppa Terzetti giorno singolo quindi una volta sola bisogna giocare ovviamente in 3 e il torneo si svolge in 3 round con in palio una spilla per ogni round superato hanno davvero ragazzi migliorato anche un sacco nel compartimento grafico nei bug e soprattutto hanno migliorato parecchi aspetti della grafica io non vedo l'ora di vedere questa patch 7.4 insieme a voi vi ringrazio tantissimo per aver letto anzi ascoltato le patch notes mi raccomando se dovete scioppazzare di prepotenza utilizzate il mio codice XIUDERONE noi ci vediamo in live ciao XIUDERONE 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 的